Mentre vengo via dalla Chiasa Superiore, diretta da Rezzo, piove. Piove e penso alle parole di Elio Marcantoni. Io ho visto sinceramente della gente qui, dei palcon paesani e anche della gente di casa nostra, piangere, ricordandosi quello che è successo qui. Purtroppo questa notte siamo stati tutti senza chiudere un occhio. Piove e queste frasi mi balzano ancora alla mente. Noi non c'eravamo quel 9 luglio del 2009 alla Chiasa quando improvvisamente tutto si allagò, ma deve essere stato davvero impressionante. Ci sono foto e video amatoriali a testimoniarlo, ma averlo vissuto deve essere stato davvero drammatico. Ed in questi giorni in cui il dissesto idrogeologico per mano dell'uomo porta danni, morti e feriti nelle città come Genova, Parma e Albigna, la rabbia e la voglia di lottare per la verità, perché vengano fatti i lavori di messa in sicurezza. E per il risarcimento dei danni subiti è ancora più forte. Siamo di nuovo tornati alla Chiasa. Purtroppo in questi giorni non si parla altro che di allerta meteo. Alcune di queste purtroppo mancate, come quella di Genova. Che effetto ha fatto vedere quelle immagini in televisione pensando a quello che è accaduto qui qualche anno fa? Io ho visto sinceramente della gente qui dei palcon paesani e anche di casa nostra piangere, ricordandosi quello che è successo qui. E purtroppo questa notte siamo stati tutti senza chiudere un occhio, perché il rischio idrogeologico è addirittura aumentato. I lavori non è stato fatto assolutamente niente. Dopo cinque anni non si è più rivisto assolutamente nessuno. Questa è purtroppo la situazione. E quindi stanotte siete rimasti svegli? Io guardo pubblicato continuamente, ero molto in contatto anche via internet, perché con dei temporali come forti e le fogne praticamente sono inesistenti. Noi abbiamo avuto quattro alluvioni in cinque anni. Ovviamente non è che si può dormire. Dopo è andata bene che a determinate ore ha smesso, poi ha ripreso, ha smesso e poi ha ripreso. Poi comunque non è un problema, come anche l'alluvione scorso, non è stato un problema meteorologico, come ha detto anche la regione toscana. Non c'è nessuna causa naturale. Le cause sono da ricercare lavori sbagliati, lavori fatti male, nessuno ha controllato. Hanno definito tutti i cittadini il vaionte numero due. Qui siamo sempre sulle solite cause, dei soliti politici, assessori, sindaco e compagnia bella che non fanno assolutamente niente. Quello che fanno lo fanno sbagliato e non rimediano. Più abbiamo avuto un altro problema che tutte le istanze, le denunce fatte dalla magistratura del quadrato sono sparite. state archiviate, è sparito tutto, nessuno ha aperto un'inchiesta, nessuno ha mai fatto mosso un dito. Abbiamo una seconda interrogazione in Parlamento che ferma da un anno e nessuno risponde. Nessuna risposta. Nessuna risposta. Ecco, ricordiamo quel giorno, che cosa è successo? Che giorno era, se ti ricorda bene? Il giorno era esattamente il 9 di luglio, era una domenica, con un sole spettacolare, bellissimo. Il paese praticamente era vuoto, perché come io ho detto tante volte e come tutti hanno affermato sempre, se questo evento fosse capitato due o tre ore prima, praticamente qui si avrebbe contato qualche centinaio di morti. perché qui avevamo visto volare macchine, gassonetti, sono esattamente, poi ce ne sono filmati girati in tempo reale che girano, ormai io li pubblico continuamente, che dimostrano quello che è successo. Se succede questa cosa in un giorno diverso, come è successo a Genova, e che qui c'era tutta la gente in piazza della chiesa, avevi visto quando escono di chiesa verso le mezzogiorno, la scuola, per carità, anche la scuola è stata centrata in pieno, ancora piena di fango, questo tra virgolette, e qui si montavano tanti morti. C'è stato alcuni feriti che nessuno ci aveva detto che c'erano, però quando siamo riusciti a recuperare le denunce dei cittadini che erano state fatte sparire, dal comitato finto, praticamente abbiamo rilevato anche diversi ricoveri a pronto soccorso, e uno ha detto che è sbaccato una gamba, altre cose, cosa che qui non c'era stato neanche un minimo ferito, niente, però il rischio era proprio di lasciarci le penne. La nostra amica archeologa che ha perso tutto qui, il computer, la macchina, eccetera, l'han tirata fuori qui da casa mia in tre, perché c'era il fango oltre due metri sopra la testa. Dea, vi siete fatti di questa vicenda, anche vedendo quello che succede anche nelle altre città italiane, l'uomo fa danni nei territori? I danni li fa l'uomo, però il discorso è più che l'uomo, qui si ritorna sempre al solito discorso della politica, dei tecnici, perché qui, come è stato dichiarato anche dal comune e dalla provincia, con dei fogli protocollati che ho, quando è stato fatto nel 2004-2005 denunce da cittadini che dicevano che quest'opera era un pericoloso, l'hanno dichiarato, i tecnici, l'ha dichiarato il comune, che era tutto perfetto, tutto fatto a regola d'arte, non sarebbe mai successo niente. Infatti si è visto la stessa cosa di Genova, che questi hanno detto tutto sicuro, è andata bene, anche a Genova è morto solo, perché anche lì poteva essere una strage. Come a Messina, come nella periferia di Messina. Messina, Sarno, più o meno siamo in contatto con tutti noi, perché purtroppo siamo una categoria di alluvionati e abbandonati, in Italia siamo tantissimi e siamo addirittura in contatto anche fra di noi, perché non fanno niente da nessuna parte. Ecco, siamo di fatto già in campagna elettorale, perché insomma il sindaco Fanfani ormai è stato nominato al CSM, c'è il prosindaco Gasperini adesso, però in primavera sarà di nuovo elezione per il comune di Arezzo. Che messaggio volete mandati, che cosa chiedete a coloro che saranno i candidati a sindaco? Noi, prima cosa voglio chiarire un fatto, siamo contentissimi che Fanfani se ne sia andato. è stato premiato per una cosa che non merita e poi vorrei chiarire appunto che qui non ci sono politici, nel senso che i cittadini alluvionati, noi che facciamo parte degli alluvionati, non apparteniamo a nessun tipo di partito politico, movimento o cosa del genere. Siamo tutti, ognuno è libero di andare a votare, votare quello che vuole, non ci sono problemi di questo tipo, perché se no la gente fa presto a dire si nascondono dietro i partiti e cose di questo genere. Noi qui i partiti non esistono. Il messaggio l'abbiamo già inviato anche al prosindaco e oggi addirittura a quello che si è presentato per il PD. A Teo Bracciani, intendo? A Teo Bracciani, non lo so, non li conosco. Che cosa gli avete scritto? Li iscriveremo, anche in campagna elettorale, li chiamiamo già da ora, vogliamo sapere cosa intendono fare per la gente danneggiata, per tutti i problemi che ci sono nel territorio. Oltre a questo vedo che ce ne sono tanti, insomma, furti, rapine, proprio ieri. Certo, scusate. Voi avete dato notizie del chiavaretto, tutte le macchine sfasciate, il parroco qui, tutta la canonica svuotata, beni della chiesa, addirittura quelli archiviati, quelli che sono registrati, portati via. Poi gli assessori ci dicono che va tutto bene, se va bene così, a me mi sembra proprio che, non lo so, forse si sbaglia a noi. Ci sono tanti danni da risarcire, ma non si è mai parlato di risarcimenti? Mai più rivisto nessuno, mai risentito nessuno, assolutamente niente. I danni, noi abbiamo una prima stima fatta sulle denunce che erano sparite, che ora si trovano in Manavadigos, avevamo fatto una stima su quelle denunce lì, ma che erano una piccola parte, e siamo oltre i 2 milioni di euro di danni. E qui appunto ci sono molte famiglie in difficoltà spaventose, e se fate un giretto, vedrete che le case qui intorno, tutte, sono tutte in vendita. Perché? Sono in vendita perché la gente ce la fa andare avanti. Qui arriva, qui non è stato, a Cosa Genova hanno spostato le bollette di un giorno, qui non ha fatto neanche quello, qui è arrivato delle bollette stratosferiche, fra corrente, acqua, eccetera, che è servita per ripulire le case. Qui è stato fatto tutto da noi, insomma. Ci ha aiutato della gente da Rezzo, che è venuta qua a lavorare, ma da parte di istituzioni, zero. E adesso le case, molte delle case della chiasa superiore sono in vendita? Guarda, qui, se dei volti, quella è in vendita, quella là è in vendita, quella sul ponte è in vendita, e qui dietro, qui soltanto qui ce ne sono quattro, che sono quelle nel centro dell'alluvione. Abitanti storici del posto? Sì, tutti qui, fortunatamente, qui è extra, non c'è quasi nessuno. Non ci vogliono venire? No, no, ora poi con questa situazione può immaginarsi che vengono qua. La notte la gente vorrebbe dormire, ma Rezzo non fa parte del Comune d'Arezzo, che i cittadini possano stare tranquilli, insomma. Purtroppo questa è la situazione attuale, sono passati cinque anni, più, che era il 9 di luglio del 2009, zero, mai più di visto nessuno.